a che punto è la cenetta nella nostra nuova berloni quasi pronta poi guarderei quel bel film in tv la nostra nuova tv già il regalo berloni per la nostra cucina non è uno spettacolo arrivo fino al 30 aprile con l'acquisto di una cucina anche in comoderate berloni ti regala un favoloso lcd philips da 42 pollici che aspetti berloni raddoppia lo spettacolo informazioni precontrattuali disponibili nei punti vendita salvo approvazione agosto ducato bazar arredamenti esclusivista di zona berloni visita il nuovo showroom in via cicerello a pochi metri dall'uscita superstrada ionio tirreno gioiosa ionica